... ... ... ... ... Eccoci qua Eccoci qua, mi trovo qui con le ragazze della selezione calcio femminile del Perù, bravissima la nostra Tamiris con le quali stiamo per proporvi i gol che si rifiniscono alla partita a Sampdoria Napoli siamo sull'1-2 il gol che andiamo a mostrare è quello di Higuain Tamiris, bravissima prepariamoci per l'azione da gol primo gol del Napoli azione, dai ecco c'è un passaggio un po' sassino di Barreto la palla arriva a Higuain che si invola verso la porta e realizza c'è il lancio della Sampdoria lancio della Sampdoria quindi io non l'ho visto si si retropassaggio ma l'ho pagato della Sampdoria giusto e poi Higuain ha fatto un gol che non l'ha mai fatto così quest'anno in contropiede col pallavangolino proprio mai ventunesimo gol di Higuain ma io vi voglio parlare di una cosa molto più importante durante il periodo non collegati c'è stata una piccola lite con i mariaci i mariaci erano in rinnovo di contratto mi hanno chiesto 20 euro in più forse perché si sono montati la testa li ho lasciati a casa non vedrete mai più i mariaci a quelli del calcio ma voglio dire una cosa per favore voglio dire una cosa a tutti i miei fans non rimanete mai con Mimmo senza la musica magistrones già sostituite vai no vabbè ma chi sono questi uno due tre bosca 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 gli inquilinari beh beh non si può fare sto balletto con sta musica beh lo suonano bene oh bravissime ma non che i mariaci lo suonino bene che c'è ferme tutto che c'è mariaci dai no ma no ma erano bravissimi noi li preferivamo ma come Zalappa la musicandina che noia mortale ma come non è vero ma come non è vero è bello quella musica come che noia mortale è bello è una citazione poi ha dato 20 euro solo a uno allora il capo ma per fare sto passo che bellezza mi sento tirato per la giacchetta